Avevano messo a segno una trentina di furti ai danni di auto in sosta. Alcuni di questi colpi messi a segno anche in Versilia la scorsa estate. Cinque persone sono state arrestate nel blitz computer ai carabinieri di Pistoia, al campo nomadi di Ponte Lungo, nel Pistoiese e di Empoli. Otto le perquisizioni eseguite. Tre persone sono in carcere e due agli arresti domiciliari. Colpivano in parcheggi di luoghi frequentati da avventori occasionali. Le indagini erano partite nel luglio scorso dopo la denuncia di furto da parte di un cittadino di Montale. Attraverso intercettazioni e localizzazioni GPS è stato ricostruito un sistema ben collaudato da parte del gruppo criminale che praticamente ogni giorno colpiva aree di sosta, parcheggi di ristoranti, di B&B, nelle colline di Pistoia, ma si allargava spesso fino sulla costa versiliese, soprattutto nei giorni festivi, nelle località più frequentate dalle famiglie che trascorrevano la giornata al mare. Si spostavano su strade secondarie, poco trafficate, per evitare i controlli. Gli oggetti rubati, portafogli, borse, computer, telefoni, talvolta gioielli, venivano poi rivenduti ad altri soggetti denunciati per ricettazione.